ciao ragazzi un saluto da pietro spataro allora oggi voglio fare questo video solo perché l'ennesimo attacco contro la juventus guarda io non so nulla che dirvi va allora quando la juventus vinceva la champions nel 96 tutti che dicevano e la juventus è dopata e la juventus è già il campione del mondo questo è vero e quando uno si sente campione d'europa è certo quelli che sono frustrati alla juventus è normale che dicono che la juventus era dopata solo per il rosicamento poi nel 2006 è scoppiata calciopoli e comprava i comprava le partite comprava gli arbitri va passato il campionato moggi va e certo quella quelle farsopoli è stato poi nel 2012 e con te che ho dopato poi marotta e parati ci sono padroni va la solita frustrazione poi quando parlando di ronaldo parlando di ronaldo quando era real madrid tutto a posto grande campione ronaldo il calciatore più forte del mondo e quando è venuto è venuto la juventus è stupratore stupratore petto pianic vabbè va a parte gli scherzi va certe persone sono sempre frustrate da parte della juventus juventus cara juventus ascoltami ti devi imparare anche a difenderti da sola perché mezza italia vedo che ti odia tanto va certo è allegri che quello che ha postato è un riciclaggio vabbè va ma che stanno a di questi il giornalismo italiano è vergognoso non azzeccano neanche una secondo me questo era il mio video prima di salutare ho visto già il ritorno del mio del mio grande fratello juventino ghettano scalandra perché non ha postato più un video per una settimana perché io gli auguro una buona e pronta guarigione a ghettano scalandra perché ha avuto problemi gastrointestinali è normale quando uno non si sente bene non ha voglia di fare nulla perché sappiamo tutti che la salute è la prima cosa nella loro vita oh caro ghettano scalandra se mi stai guardando questo video ti auguro solo una buona e pronta guarigione va se volete vi lascio un link sotto in descrizione per il ritorno di ghettano scalandra su youtube ok ragazzi adesso non ho nient'altro da aggiungere io spero che il mio video vi sia piaciuto vi invito che lasciate subito un like al video commentate qua sotto iscrivetevi al mio canale se ancora non vi siete iscritti se siete appena iscritti cliccate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i miei prossimi video che usciranno seguitemi su facebook e anche su instagram ci vediamo molto presto per i miei prossimi video sempre fino alla fine forza juventus ciao belli